oltre sono sempre io e oggi siamo tornati su scribble.io con questo bellissimo mino che non può mancare o stalin disegna vediamo un po cosa disegna il nostro stalin un cilindro un cappello ok ho capito qual è sotto bicchiere signori al primo colpo proprio lui dobbiamo arrivare ai 1070 punti per fregare il primo è facilissimo devo dire ha disegnato bene appena entrato subito indovinato la parola che sta disegnando un uomino non sto capendo ma che ma cosa sta disegnando babbo natale madonna non so come quella sarebbe una barba quella sarebbe una barba se sembra più un folletto o uno con il bavaglio piuttosto che una barba top babbo natale una no una pala no madonna forse ho capito ammazza zanzare chiaccia insetti come cavolo si chiama chiaccia mosche dai tutto il disegno ha sminchiato capito che una mosca ma come si chiama scaccia mosca no vabbè c'ero quasi arrivato e poi da noi si dice diversamente quindi non era abituato a chiamarli in quel modo ok cosa sta disegnando non ho capito che cacchio è non sto capendo veramente una gomma mamma mia era la gomma che poi non mi ricordavo così la gomma ma ricordavo un po diversa se si muove a disegnare cosa sta disegnando la cacca top disegno della cacca o cosa posso disegnare io disegnare un bel camion dei pompieri così il nostro camion dei pompieri qui facciamo che c'è la porta ci sono le ruote ovviamente qui facciamo che c'è una scala poi le sirene ovviamente ovviamente lo devo disegnare tutto rosso dai è easy è easy giovanni mucciaccia levati ha fatto il disegno più bello della storia anzi qua mettiamo pure la manichetta dell'acqua più completo di così non so disegnarlo com'è possibile che solo uno uno l'ha indovinato uno cosa può essere forchetta signori mamma mia proprio a lui le indovina se lo indoviniamo solo in due e qui stanno messi male ma che razza di forchetta ha disegnato secondo me il quarto posto non sta giocando un vaso latte madonna proprio a lui sto diventando esperto di questo gioco sono fiero di me vuol dire che è servito qualcosa a giocare a questo gioco è palese angel non sta giocando ok sono arrivato secondo posto grazie a qualcuno che se n'è andato ma sa almeno cosa deve disegnare un albero forse ho capito vai è amaca madonna l'avevo indovinato pure prima che lo disegnava l'amaca quella m mi ha salvato il culo gli alberi ed arriva a dare ma non so che è un qualcosa di artistico sì ma non si può giocare stiamo giocando in due oh c'è favij non credo sia il vero favij o forse sì ormai lo sto trovando quasi spesso favij ormai diventa una meme di scribble quando gioco io c'è favij che sia fake o meno dai non è il vero favij non disegna così lui sei fake favij si vede anche per come disegno che sono quello vero se se che cacchio sta disegnando un alieno bullying mamma mia proprio lui proprio lui non de morde lo sapevo io camminare come potrei disegnare ma mi hanno chiccato che cacchio sta disegnando un omino cavallo cioè appena entrato appena entrato dopo cavallo questo cioè è bellissimo con le zampe di madonna che razza di cavallo sto vedendo cosa sta disegnando six and a half hours later non ho capito flauto di pan e andiamo era easy fottutamente easy dai come fai a non sapere il nome ok covid19 è entrato in partita non ho capito cos'è ho capito pan di stelle noce di cocco mamma mia proprio lui dai qui le facciamo il culo il mocio dai disegniamo un bel mocio allora questa è la mazza poi facciamo che qui c'è una pozzanghera d'acqua qui c'è il secchio dai è facile dai è easy è easy ve l'ho disegnato il meglio possibile dai che facilissimo vile da come nessuno ha indovinato il mocio era il disegno più facile della storia ok cosa può essere che cacchio sta disegnando la stampante che bella stampante non l'ho mai vista così bella potete vi farla meglio aspetta forse ho capito si ho capito fenicottero espertissimo top fenicottero bisogna dire l'unico che sa disegnare decentemente in questo gioco disegniamo una catena d'oro allora ovviamente scelgo il giallo ole bello preciso è facile non lo scrivo pure 24 carati vai vediamo se qualcuno ci arriva dai è facilissimo è proprio scemo questo ha scritto 24 carati secondo te cosa può essere ma è una catena è una fottuta catena ok direi di chiudere qua questo video su scribble.io spero che vi sia piaciuto se si lascia il like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram e su altri social link in descrizione e niente noi ci vediamo alla prossima iscriviti al canale